E' vera emergenza in Italia e in tutta Europa per il caldo torrido di origine africana che in una morsa arroventata sta stringendo diverse nazioni. Il caldo killer ha già avuto il suo tributo di vittime, due in Spagna e tre in Italia, nelle sole ultime 48 ore ed in Francia è vera emergenza climatica con la colonina di mercurio che è schizzata nella capitale Parigi ben oltre i 40 gradi. Non si appace nemmeno di notte e sono oltre 15 le città italiane che hanno il bollino rosso. Centralini in tilte chiamate a Polizia Urbana 118 per denunciare malori e situazioni critiche non si contano più e naturalmente è emergenza anche sanitaria con il pronto soccorso di tutte le città che registrano una impennata delle prestazioni. Anche nel nostro territorio questa situazione sta creando un sovraffollamento fuori dalle normali statistiche delle sale d'aspetto come ci dice anche il responsabile del pronto soccorso di Fano Giancarlo Titolo che in questa settimana ha visto schizzare a più 20% gli accessi al servizio passando dai 110-120 accessi giornalieri di media stagionale alle oltre 150 prestazioni giornaliere. Con questa ondata di calura hanno dovuto anche far fronte nonostante il sovraddizionamento dell'organico alla richiesta dell'utenza. Che lo si voglia poi chiamare con i nomi più coloriti o evocativi possibili come Caronte o Scipione, le vittime predestinate del caldo sono sempre le stesse anziani e bambini. Dottore qual è la tipologia di paziente che accede in queste giornate di grande caldo? Soprattutto i pazienti più fragili insomma sono sia bambini ma molto di più gli anziani. Gli anziani sono molto molto fragili insomma quindi già di per sé non bevono insomma non si idratano con questo caldo diciamo la situazione rischia di precipitare insomma molto velocemente. Nonostante tutto siete riusciti ad assicurare un servizio puntuale, preciso con grande sacrificio di persone e di risorse? Assolutamente abbiamo tenuto aperto tutto con un sacrificio personale da parte di tutti quanti i medici e cerchiamo di dare insomma il massimo per queste veniezze. Quali sono le tipologie di patologie tipiche di questo periodo che vedete maggiormente? Ma soprattutto la disidratazione, cardiopalmo, anche nel paziente per esempio fragile dal punto di vista psicologico. Questo grande caldo, questa grande afa porta pazienti psichiatrici insomma a venire più in pronto soccorso insomma per questione di ansia per esempio. Quali sono i campanelli d'allarme proprio per le persone anziane prima di arrivare a situazioni critiche? I campanelli d'allarme sono la stanchezza, la saturazione profusa, la scarsa capacità di addormentarsi durante la notte e soprattutto la scarsa capacità di concentrazione.